Si è svolta dal 22 al 25 settembre l'ottava festa della Polenta di Flero organizzata dalla Proloco che ha proposto un ricco programma tra serate danzanti, animazione e buon cibo a base di Polenta. Non solo cultura e nuogastronomica ma anche arte e letteratura con gli artisti in piazza. L'occasione è stata anche colta per presentare il quadro La Scarfoiada del Flerese Gigi Zanola, il libro sulla storia della Polenta curato da Emanuela Timelli e per gli appassionati delle due ruote non è mancato il ciclo raduno delle moto e bici storiche vintage. I volontari della Proloco di Flero si sono detti soddisfatti e rinnovano l'appuntamento per il prossimo anno. Praticamente questa è l'ottava edizione della festa della Polenta, è una festa molto partecipata, c'è sempre veramente un afflusso di gente notevole perché i piatti che vengono cucinati sono genuini, sono buoni e poi di particolarmente bello c'è la collaborazione con Proloco delle associazioni come Aido e Ail le volontarie di Aido e Ail che aiutano, ci sono alcuni degli alpini comunque che vengono ad aiutare Proloco e quindi questo scambio di persone tra associazioni è una cosa positiva sul territorio. C'è sempre comunque la musica che attira tantissima gente, ieri sera c'era tantissima gente che ballava, gli anni 60 ieri sera, stasera ci sono i samurai e c'è il gruppo dei bravi ragazzi dove faranno vedere appunto questi balli e adesso c'è un intrattenimento con i bambini che sarà piacevole, appunto me l'aveva detto in questo momento e poi è sempre elietato da persone simpatiche, abbiamo un ragazzo che fa questa magia tra i tavoli, un gioco di carte molto simpatico, un ragazzo è un commerciante di flero, perciò anche qui i commercianti, ecco si lavora sempre sul territorio, una cosa molto positiva. Si spera, si spera, ecco la Proloco è dal 2008 che è sul territorio con parecchi eventi, sempre in unione con le altre associazioni, questo veramente ci tengo a dirlo perché è molto importante. Ho visto questa edizione della festa della Polenta, partecipata proprio da parecchie associazioni e questo mi ha fatto molto piacere, sei di Flerosè, Aido, Avis, Alpini, tutti, anche dell'Avis, è molto importante. Queste belle persone veramente e tanti volontari della Proloco, veramente perché ne abbiamo parecchi. è stato piacevole, faticoso, ma piacevole. Grazie. Noi ringraziamo voi, Giusy e Elena, ci vediamo allora al prossimo anno. Speriamo di sì, grazie. Grazie.